Max, ma secondo te, che è stata a ricaricare i video di diottobia? Forse i tuoi compagni di classe Sono due anni che sono uscita da questa scuola di merda Dai, erano vinte divertenti Dai Max, smettila di fare il cretino, sto parlando seriamente Eh, amico mio, ci sono così tanti stupidi in questo mondo Bisognerebbe davvero eliminarli Sì, anzi, sarebbe bello se, sì, se si rimassero da soli Dai, su, te la prendi troppo Ma perché? Tu veramente ti senti un idiota? Videomessaggio terminato Tobia, è proprio una fantastica giornata Tobia, è proprio una fantastica giornata Tobia, è proprio una fantastica giornata